Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Computer Museum In questa puntata andremo a fare l'unboxing di Arduino Nano Ovviamente Arduino Nano non originale perché come sapete Essendo che i cloni costano molto ma molto meno Ma hanno anche a differenza degli originali molti molti bug In questo caso abbiamo trovato un Arduino Nano veramente poco costoso In confronto a quelli che si sono su ebay che costano 9,90€ Addirittura 12,90€ per un clone Abbiamo trovato questa azienda che secondo me ha appena aperto Perché non l'ho mai vista nell'arco delle stagioni di Arduino Ma è apparsa nell'ultimo Infatti vendono un Arduino Nano a 6,90€ Senza spese di spedizione Io all'inizio pensavo che era tipo ad importazione Cioè che dice che l'azienda è in Italia ma per realtà è all'estero Invece no, è proprio in Italia ed è a Roma l'azienda E dentro all'interno ci danno un Arduino Nano Ora non so se ci metto insieme i cavi ma quello si vedrà La spedizione è stata effettuata da poste italiane Quindi hanno utilizzato una prioritaria Pensavo che ci mettesse 10 giorni come aveva descritto il venditore Ma in verità non è così Il venditore in più ci ha assicurato una volta che abbiamo acquistato questa cosa Che il pacco era vero e non una truffa Infatti ci ha inviato una foto con allegato e tutto Mostrandoci proprio la foto del pacco che doveva essere spedito E quest'oggi è arrivato in soli 24 ore Quindi veramente ottimo Ora andiamo a vedere il pacco Allora esteriormente è veramente fatto bene Non ci sono danni né niente in confronto agli ultimi che ci sono arrivati Nelle scorse puntate che erano praticamente mezzi aperti Praticamente all'interno ci troviamo il nostro Arduino Nano Almeno spero perché adesso devo ancora andarlo a aprire Il pacco è ben chiuso come vedete Cioè non ha difetti o altro Ok Vabbè ormai l'ho aperta malissimo la cosa Ok All'interno non ci danno il nostro cavo USB Però ci danno questa sorta di scatoletta Porta componenti elettronici Ora speriamo che sia quello completo come in foto Sì è quello completo come quello in foto Allora innanzitutto adesso devo trovare il modo di aprire di qua Ok I pin come vedete sono ancora da agganciare Però come vedete la USB è di tipo attacco USB normale Quindi è un attacco Aspettate che mi metta fuoco Ok un attacco USB normale Quindi cavo di connessione degli hard disk È praticamente quello lì Non ci viene dotato una confezione ma è facilmente reperibile E questo qui è il nostro Arduino Nano I componenti come vedete ci vengono dotati pure pin da saldare Cosa molto semplice anche da saldare Tanto basta un po' di stagno che costa un euro o due euro come questo qui E un saldatore e di conseguenza riuscirete a saldare senza problemi Poi una volta fatto tutto ciò saranno inseriti in questo modo Ok E poi questo qua sopra Perfetto In questo modo avremo il nostro Arduino Nano pronto Ma funzionerà? Non funzionerà? Vediamo un secondo insieme se funziona Bene siamo pronti a testarlo Ora innanzitutto andiamo ad agganciare il nostro computer A vedere se lo rileva Perfetto e fin qui sappiamo che lo rilevi Ora agganciamolo con un po' di nastro in modo che non si sposti dall'inquadratura E vediamo se lo legge il nostro computer Vediamo Allora strumenti Porta Com 4 Perfetto lo legge Quindi sappiamo che il nostro Arduino non è fasullo oppure che abbia problemi Ma è perfettamente funzionante Ve lo consiglio perché veramente costa molto poco In confronto ad altre aziende che lo fanno costare veramente tanto Questo è un prezzo veramente molto vantaggioso E vi consiglio seriamente di prendere magari atto della cosa E provarlo perché dal costo veramente inferiore Permette proprio di fare piccoli esperimenti con questa mini scheda Per il resto da Computer Museo è tutto Vi ringrazio per aver visualizzato questo video E ci vediamo alla prossima puntata Ciao ciao Ciao